Nel corso dei giorni scorsi si è tenuta la commissione sullo stato dei lavori della Darsena di San Cataldo, dove il consigliere d'opposizione Gianpaolo Scorrano ha fatto il punto della situazione sullo stato in cui verte il porticciolo della Marina Leccese, evidenziando che non è possibile allo stato attuale determinare le nuove tempistiche e gli eventuali costi aggiuntivi. Da parte dell'opposizione di Palazzo Carafa arriva la richiesta di un confronto con i settori competenti della regione Puglia della problematica relativa alla Darsena, oramai da troppo tempo bloccata dalle alghe, che sono oggetto di continui esami per capire come possono essere rimosse e magari smaltite. L'opposizione del governo Salveni vede nella Darsena di San Cataldo uno sordo cruciale per lo sviluppo delle marire, oltre che un'importante opportunità di occupazione per un settore, quello ittico, fermo da troppo tempo. Una battaglia che già tempo dietro la nostra redazione ha sostenuto e che continueremo a seguire anche nel corso delle prossime settimane.